Benvenuti da Alessandro Borghese, Kitchen Sound, il lusso della semplicità. Fasolari, tartufi, cozze e vongole. Due padelle, aglio, olio e peperoncino. L'acqua bolle. Aggiungo un po' di cime di rapa nell'acqua di cottura della pasta per insaporire. Raccolgo i succhi e li metto in una ciotola. La stessa operazione con i tartufi. E adesso il mio fusillone bio di pasta arvando, ricco di fibre, bello tenace, che raccoglie tutto il sugo. Una pasta eccezionale. 9 minuti di cottura, se la volete al dente, altrimenti un minuto in più. Un po' di cime di rapa, è il momento di impiattare. Ti è venuta voglia, vero? Senti come suona questo piatto.